I am alive Abbiamo sacrificato tutto per essere qui per il nostro sogno niente cibo niente aria di vita eppure nonostante ciò siamo tutte qui siete delle vincitrici siete delle guerriere sbaccato tutto è andato male fin dall'inizio ossessioni rivalità la rabbia ha portato ad un omicidio io la odio la gymnastica artistica la odio ma non posso farne a meno un saluto ho già dato dei vincoli ma non per tutta l'intervista allora comincerei però da questa serie che uscirà su Paramount Plus il 26 ottobre e poi su Rai 2 si vedrà nel 2023 che si chiama Corpo Libero ed è una serie che ci riguarda pure che ci riguarda un pochettino perché allora è una serie molto particolare ho visto le prime due puntate è un thriller però è un thriller molto al passo coi tempi cioè molto moderno nel senso proprio anche nella narrazione anche nel modo in cui viene ripreso nella fotografia e tutto quanto è un thriller che è ambientato nel mondo comunque della ginnastica artistica e tu interpreti un personaggio che si chiama Alex che è il medico di questa squadra di adolescenti giusto? giusto adesso il problema del raccontare thriller è che siamo sempre lì sul loro fino a dove ci possiamo spingere e quindi è sempre un problema che io lascio più che volentieri all'ospite perché così l'ospite sa fino a dove può arrivare soprattutto il tuo personaggio è certo e beh guarda è vero hai detto correttamente tutto il mio Alex è un medico ma è anche un po' forse un fisioterapista cioè è una figura come in queste esistono credo in queste piccole realtà questa è una piccola società napoletana di ginnastica artistica si capisce che Alex comunque ha un passato più importante ha gravitato intorno al mondo della nazionale della ginnastica artistica qualcosa è successo e ha avuto questa specie di downgrade la stessa cosa con il personaggio dell'allenatrice interpretato da Antonia Truppo e quindi come nei film lui mette su una squadra lui si ritrova in questa piccola società con queste ragazze napoletani molto promettenti la vis invicta questa società si chiama e decide di chiamare una brava allenatrice Antonia Truppo che anche lei ha avuto dei problemi anche lei era in nazionale si capisce anche lei caduta un po' in disgrazia formano questa coppia particolare e il thriller inizia con questo viaggio perché partecipano a un torneo un torneo in mezzo alla neve in un ambiente molto bello la serie ha questa atmosfera di sospensione che poi si combacia un po' con l'argomento che è quello dell'adolescenza della crescita di questo momento sospeso in cui da bambino diventi donna o uomo e non sei né una cosa né l'altra e il mio personaggio ha a che fare con questo mondo non solo sportivo ma della psicologia e della crescita di queste ragazze infatti una delle cose che mi hanno catturato subito è che ci sono vari livelli di narrazione perché ci sta questo è anche se vogliamo una storia di formazione perché ci sono queste ragazze adolescenti che appunto si ritrovano a dover convivere in questo ambiente come dicevi tu sospeso un po' un thriller norvegese se vogliamo perché sta in mezzo a questa neve in Abruzzo in questo hotel in Abruzzo e quindi ci sono le rivalità fra di loro gli amori, le invidie, le gelosie e poi c'è appunto il racconto di questo sport la ginnastica artistica perché poi ci sono queste ragazze che quando vanno a fare la gara hanno questi vestiti tutti brillanti col sorriso super truccati ma poi in realtà dietro si cela come tutti gli sport poi se vogliamo però questo diciamo un po' più evidente c'è uno stacco più evidente tutto un sottobosco oscuro di invidia e rancori eccetera e se tu sei d'accordo non so se sei d'accordo con me questa è anche una serie che racconta perché parla di ossessione no? sono tutti ossessionati da qualcosa più o meno perché ci sono le ragazzine che sono ossessionate appunto dal successo dalla perfezione devono rimanere così devono rimanere a questa altezza non possono crescere non possono mangiare ma anche gli adulti hanno delle ossessioni giusto? sì l'ossessione è interessante come espressione però se pensiamo allo sport a livello agonistico forse è giusto essere ossessionati dal risultato da raggiungere quindi non solo un atleta che sta lì a combattere con il cronometro i centesimi un nuotatore o il tennista e la gineastica artistica è un mondo abbastanza duro e crudele fa effetto perché come dicevi te dietro queste mascherine quasi giapponesi come dice la nostra regista Cosima Spender che giocava molto su queste espressività no? apparentemente di così di gioia di distensione dietro ci sono allenamenti massacranti e grandi pressioni per cui senza stare poi a giudicare troppo ma sappiamo come a un certo punto lo sport agonistico rispetto all'incitare lo spingere il risultato e gli ossessioni si i personaggi sono molto ossessionati il mio in modo insomma sicuramente particolare anche quello di Antonia hanno una storia pregressa che li spinge a un riscatto a un riscatto questo è un piccolo torneo ma a seconda dei risultati perché è un torneo dove partecipano norvegesi, rumene, francesi e internazionale per cui da questo piccolo torneo potrebbero avere un riscatto tutti quanti i personaggi degli adulti ma anche queste ragazze e la storia racconta attraverso la voce narrante proprio della protagonista che è una delle cinque atlete che racconta con un montaggio alternato tra passato e presente quello che succede inizia con la fine e poi va e presenta i personaggi questo ricordiamolo tra l'altro è una serie tratta da un libro appunto di Ilaria Bernardini e queste ragazze che sono appunto protagoniste anche della storia sono tutte e cinque ragazze mi pare che erano all'esordio non l'ho mai recitato in un film come ti sei trovato a recitare con queste ragazze? come è andata? guarda è stato molto divertente a parte c'è stato io purtroppo mi sono beccato il covid del primo giro di riprese sono arrivato sono arrivato in Abruzzo festa di inizio lavorazione come arrivo mi chiamano da Roma mio figlio più piccolo ce l'aveva io avviso la produzione infatti il giro dopo mi è venuto ma quando poi sono tornato così mai pensavo scherzasse le ragazze ti aspettano sono così eccitatissime di conoscerti quando sono entrato in questa baita sono arrivati tutte e cinque tutte truccate di scena ma erano così euforiche così positive così piene di energia quello che mi ha colpito è che è vero che lo sport dà qualcosa in più sicuramente nel senso si dice sempre ed è vero ho girato spesso con ragazzi piccoli con bambini pure in Suburra ma in tanti film è faticoso stare sul set insomma tanto è vero che ho degli orari per i minorenni non si va oltre una certa ora devi fare le convocazioni in un certo modo e dopo un po' vedi che che mollano cioè che perché non c'è un'abitudine mentale fisica a fare questo insomma ci vuole un allenamento un minimo loro erano delle belve giravamo nel freddo loro dovevano fare cose sportive dovevano recitare avevano pagine e pagine di dialogo oltre alla bravura naturale io secondo me alcune di loro avranno insomma probabilmente sceglieranno di fare questa carriera perché almeno credo poi non è così la mia intuizione ma quello che mi colpiva era la leggerezza la gioia e mai un attimo di stanchezza secondo me derivava e l'hanno detto a volte dicevo Filì ma noi qua ce ne abbiamo abituati perché comunque le massacrano e non sono professioniste ma sono a un livello ottimo una delle cinque è arrivata seconda ai campionati mondiali per squadre mi sembra si vede Eva Jurlaro e e le altre comunque sono un ottimo livello quindi non sono proprio delle direttanti sono delle semi professioniste fanno gare internazionali ma t'hai un po' preso la ginnastica artistica della vostra serie oppure allora a me piacciono tutti gli sport e li ho fatti così tanti che sono tutto rotto sono ridotto malisi non posso più fare niente proprio perché ho esagerato lo sport fa male a livello agonistico bello sto messaggio a me non te pagano capito giustamente allora tipo pure ti sfasci però almeno c'è qualcosa che cambia e certo dice beh ma io ho guadagnato invece io sono il classico deficiente che ha fatto qualsiasi tipo di sport un po' competitivo pensando di essere bravo ed è lo ero in molte cose io ho fatto atletica ma e no mi ha appassionato mi è sempre piaciuta e e l'ho pure e tra i tanti sport che ho fatto c'è stato un momento che feci ginnastica artistica attrezzistica il cavallo si chiama cavallo con maniglia loro mi hanno spiegato quello si chiama diverso insomma gli anelli una parte di preparazione dell'atletica della ginnastica artistica è molto bella chiaramente una parte limitata perché poi tutto il resto poi non ti ha aiutato però su sta serie no non ti ha aiutato non diciamo bugie no 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 assolutamente senti allora ehm un'ultima domanda su questa serie e hai girato in un ambiente io che vedevo il film la serie a me mi veniva freddo proprio perché secondo me le temperature erano belle rigide quando avete girato era febbraio marzo ecco e mi ricordo che appena arrivati erano contenti ma non troppo perché dice però avremmo voluto più neve perché le descrizioni i paesaggi innevati questa atmosfera misteriosa c'era la neve ma sai quando vedi un po' di bianco per terra ma un po' di terra volevano la neve volevano la neve e a certo punto è arrivata una nevicata e ti dico solo non so quanti metri ma non si vedevano le macchine parcheggiate cioè le macchine erano scomparse noi non in un weekend non ci hanno fatto tornare a Roma per il pericolo proprio di arrivare solamente a prendere un treno e quindi alcune cose sono state non dico rigirate ma integrate proprio perché era realmente bello dice beh riniziamo alcune cose alcuni il freddo sì c'era era notevole ma noi eravamo pure vestiti di conseguenza quindi si affrontava bene grazie 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 grazie